Ciao e benvenuti alla nuova puntata dell'Apriscatole, la numero 10. Siamo entrati in dicembre e allora cosa possiamo mettere sotto l'albero? Andiamo a vedere dopo la sigla. Capita spesso che i negozi con i loro servizi non siano all'altezza delle esigenze del consumatore moderno. Per cui spesso questo consumatore si rivolge agli acquisti online. Quello che voglio raccontarti oggi in questa introduzione è una recensione di un nostro cliente, Matteo, che proprio sabato è entrato in negozio per la prima volta e ha lasciato su Google questa recensione. Capita, se non li faccio da sempre, ma non è mai entrato in negozio da noi. E dice, sono stato accolto in un ambiente quasi intimo e accompagnato nelle mie scelte, che non sono mai state forzate o indirizzate verso qualcosa di vantaggioso solo per loro. Sapevo dell'enorme esperienza e cura del prodotto della famiglia Nucca e mi ne hanno dato prova con tutta la semplicità che hanno i buoni maestri. Mi sono sentito libero di scegliere e sempre convinto della qualità dei prodotti che avevo davanti agli occhi. È stata un'esperienza bellissima e non solo un semplice acquisto. Tornerò sicuramente perché mi sono accorto di essermi perso qualcosa in tutto questo tempo che passavo davanti alla loro vetrina. Ringraziamo di cuore Matteo e veramente questa sua recensione ci ha dato veramente grande gioia perché ha messo davanti l'importanza delle esperienze d'acquisto rispetto al semplice prodotto che puoi acquistare praticamente ovunque. È arrivato il momento di andare a scoprire quali sono le proposte di questa settimana della priscatole e partiamo con questa scarpa allacciata in colore nero. Vedi lo stile è maschile, la forma è abbastanza sfilata ed è in pelle spazzolata. Scarpa molto semplice però dalla linea direi molto chic e quindi che rende il tuo outfit veramente più particolare. Oltretutto abbinata a una borsa sempre in ecopelle nera con catena che ecco che mi pare che insieme ti faccia una combinazione giusta. Il secondo articolo è un tronchetto ed è davvero molto particolare. Eccolo qui. Come noto è un tronchetto da tacco 5 cm in bordeaux bianco e nero morbidissimo con una cerniera posteriore e l'abbiamo abbinato a questa borsa sempre bordeaux a tracolla in pelle molto morbida e con il riporto nero come la punta del tronchetto. Per il terzo articolo ti faccio vedere uno stivale. Sai che ora sono tornati di moda e quindi ti facciamo vedere una forma che è femminile però anche sportiva con il tacco grosso altezza 7 cm estremamente portabile la chiusura si fa con la cerniera e poi la forma è piuttosto fatta a tubo. Lo abbiniamo con questa borsa in ecopelle trappuntata che potrai usare proprio sia da sera e anche da giorno. Veniamo ora alle proposte per i nostri clienti uomini e per prima cosa ti facciamo vedere una sneaker artigianale con pellame e tinto in capo con la zip vedi qui laterale e con una morbidezza e una flessibilità davvero unica. La seconda proposta invece è un po' più formale un po' più da ufficio però sempre con quel tocco di particolarità che ci piace dare ai nostri clienti. con questo effetto più consumato su questa parte di camoscio che dà alla scarpa una caratteristica diciamo meno classica più grintosa. È arrivato il momento ora di andare a vedere quali sono le offerte che ti abbiamo riservato e che scadranno lunedì 9 dicembre. La scarpa con i lacci costa 219 e per questa settimana la puoi avere a 164. Il tronchetto tricolore costa 335 euro e per questa settimana lo puoi avere a 249. Lo stivale costa 269 euro e per questa settimana lo puoi avere a 199. La sneaker costa 219 euro e solo per questa settimana la puoi avere a 164. Infine la francesina da uomo costa 219 euro e anche questa la puoi avere per 164. Bene anche per questa settimana ti abbiamo fatto vedere le nostre offerte spero ti siano piaciute quindi noi ti aspettiamo in negozio e ti ricordo che siamo aperti tutte le domeniche pomeriggio di dicembre. Alla prossima puntata. Ciao!